A riposti i blog ci staviano i guaglioni chiuzzini gli allievi, mentre alla dogana ci staviano i guaglioni più grandi, i giomici, e mentre i giomici, il comandava un cigniero, il capocantiero, il domenico bello, sempre qua la sigaretta a mucca, sempre qua la cammisa alla moda, ma sempre rossa o celeste, sempre sbottonata, sbottonata l'opietto quando faceva freddo e sbottonata la panza quando faceva cavolo. Quello cambio di stagione, il capocantiero faceva il bottone, il domenico bello se ne stava sempre stracato su panaseggia, come quando aveva nato stanco, però non scappava una mosca, sbottonata. E quando il capocantiero girava da capo, tutti i lati giravano a presso, e lui disattaccavano un guaglio, sentiasi come quando ti mette le mani a risparmi e partia la radiografia, sentiasi sullo stesso rumore come quando ti fanno una radiografia all'ospitale, che pigliava i dispacci, guampietto, con i gammi, e che pigliava il tuo culo, poi si guardavano e si passavano con ogni informazione, solo con l'ueggio, senza parola. Grazie a tutti.